Si è svolta ieri a Parco Santo Spirito la prima edizione del trofeo regionale Cross Città di Avellino, grande partecipazione all'evento organizzato dalla FIDAL. Diversi gli atleti di ogni età, provenienti da tutta la regione, che hanno preso parte a questa manifestazione. Nei 4 km, categoria donne, ha vinto Paola De Domenico della squadra ASD Isaura Valle dell'Irno, con 20 minuti a 7, una media di 5 minuti. Nella stessa squadra, con la categoria dei 4 km oltre, Camillo Fariello, con un tempo di 16 minuti e 38. Nei 6 km ha vinto Armando Ruggero della Camaldolese, nella categoria di appartenenza a Primo, anche Giovanni Tolino della Downia Running. Nella categoria sordienti e triste sul podio della Montemiletto, Team Runner, con Gian Paolo Gasparini, Michele Marinelli e Lea Mari Gasparini. Irpini che hanno brindato ai primi tre posti, anche nelle categorie ragazzi e cadetti, con Pierluigi Iandolo, Andrea De Massellis, Lorenzo Cucciniello, Antonio Lorenzo Petrillo, Francesco Russo e Fatima Barilla.